gentili telespettatori buona giornata bruno vespa ha un grande dubbio sul super green pass potrebbe finire tutto in una burla in una presa in giro perché beh è un sospetto che vi ho detto raccontato anch'io ce l'ho anch'io questo sospetto bruno vespa intanto lo definisce una fortissima limitazione della libertà personale e su questo non c'è dubbio poi c'è chi pensa che questa forte limitazione della libertà personale sia giusta perché debba essere fatta per garantire la salute di tutti invece c'è chi pensa che sia sbagliata perché devono essere tutti liberi ognuno la pensa su questo come preferisce sta di fatto che i partiti di maggioranza tutti all'umanità hanno hanno approvato questo strumento politico che limita la libertà di 7 milioni di italiani per indurli a vaccinarsi questa è la realtà si tratta di uno strumento dice bruno vespa che taglia fuori tutti quelli che hanno scelto di non vaccinarsi che così non avranno la possibilità di andare al bar al ristorante ma neanche al cinema al teatro lo studio o allo stadio però così non è vero caro vespa come diceva uno di voi ma non è vero uno può andare al bar seduto fuori uno può andare al ristorante alla pizzeria seduto fuori uno può prendere i treni la metropolitana con il vecchio green pass può andare al lavoro coi tamponi può andare al supermercato in farmacia la parafarmacia a comprare lampadine dal ferramenta in banca in posta beh insomma come volete vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto c'è chi dice è il lockdown dei non vaccinati mentre il non vaccinato dice io mica sono in lockdown io posso fare praticamente tutto quello che facevo prima ognuno anche su questo la può pensare come vuole può vedere il bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto bruno vespa aggiunge che pur essendo una forte limitazione secondo lui si tratta anche dell'unica strada possibile per sconfiggere il virus quindi vespa dice fortissima limitazione ma giusta per sconfiggere il virus siamo al punto di svolta di una guerra di cui finalmente si intravede la fine e certe strette sono purtroppo necessarie si intravede la fine io direi ci mancava però ci mancava anche la variante ogni omicron o come cavolo ci mancava anche quella comunque lui sapete che bruno vespa scrive su il giorno secondo il giornalista non possiamo rischiare adesso perché dovremmo essere severi con i troppi che saranno tentati di eludere le norme ma attenzione eludere le norme non è non è propriamente così caro bruno vespa il cittadino non vaccinato non può eludere le norme se chi deve far rispettare le norme le fa rispettare faccio un esempio se uno vuole entrare al ristorante al chiuso e il ristoratore gli dice non puoi non hai il super green pass non ci può andare se uno vuole andare in discoteca e non hai il super green pass la discoteca dice non puoi quindi uno uno può tentare di eludere le norme ma se chi c'è dall'altra parte non gliele fa eludere non può cioè per eludere le norme ci deve essere la complicità dell'altro che gliele fa eludere giusto caro vespa insomma anche tu mi cadi come il salvini sulle bucce di banana e caspiterina bisogna pensare prima di parlare riflettere cinque secondi in più cinque secondi in più quel tantino per non fare le figure ti stimo come giornalista mi cadi mi cadi su queste robe qua pertanto saranno in tanti a cercare di eludere le norme poi molti riusciranno a deludere le norme e le norme perché in perché non verranno non ci sono i controlli cioè non ci non c'è quello che ti dice non puoi entrare nel mio ristorante molti di voi mi hanno sempre detto che dove vivono non si controlla un bel niente dice dove vivo io diceva uno di voi posso andare ovunque non mi hanno mai chiesto il green pass non ho mai visto un vigile urbano un poliziotto chiedere a qualcuno questo certificato poi magari ci sono zone di tale dove te lo chiedono anche per sederti sulla panchina e zone di tale dove non gliene frega niente tu puoi entrare nel loro ristorante negozio che se ne strafregano ecco ce ne sono tante di zone tantissime macro zone anche pertanto sicuramente ci saranno quelli che tenteranno di eludere le norme ma se dall'altra parte non ci sono i controlli le potranno eludere se dall'altra parte c'è uno che dice non puoi entrare ecco e qui è la prima vespa dice i controlli non potranno mai essere capillari non dovranno comunque mancare una cosa è il ristoratore che ti dice non puoi entrare quindi è un controllo fatto da da chi ha l'attività commerciale poi non parliamo dei controlli che dovrebbero arrivare invece dal dallo stato lì la lamorgese giustamente dice a draghi che si è pure infuriato non voglio sentire queste frasi qual è la frase che ha detto la lamorgese a draghi guardi che gli uomini e le donne in divisa sono quelli che sono e sono già impegnati già sotto organico a fare dell'altro quindi come dire tutti sti controlli chi cacchio li dovrebbe fare lo zio pino ciao sono lo zio pino lo zio pino chi li dovrebbe fare sti controlli lo zio pino no non c'è neanche lo zio pino disponibile pertanto lo stato che dice draghi entro cinque giorni un piano mai visto prima senza precedenti tutte le forze di sicurezza italiane ma queste forze di sicurezza vabbè insomma vedremo farà uscire i militari della folgore dalla caserma gli incursori del colmo skin i bersaglieri che correranno per le strade non lo so non lo so arrivano i bersaglieri vabbè i ristoranti dice vespa che avrà avranno ammesso clienti irregolari andranno chiusi per un periodo se non altro per un atto di rispetto nei confronti dei commensali corretti i contagi avvengono prevalentemente per tre ragioni dice vespa persone incoscienti che senza protezione si avvicinano a persone non vaccinate per ignoranza o per arroganza incosciente e poi dice persone vaccinate all'inizio della campagna e quindi con gli anticorpi molto ridotti oppure dice dice queste persone qui si vedrà la capacità del nostro stato pertanto se lo stato non controllerà finirà tutto in burletta dice vespa e non possiamo permettercelo ma finirà in burletta non vi preoccupate non lo diranno mai nei telegiornali nei giornali ma già col green pass in tante zone d'italia non lo hanno mai controllato pertanto di che cavolo stiamo a parlare arrivederci a tutti e grazie